Il Pescara è sempre più vicino a David Pizarro, il centrocampista cileno proprio nella serata di ieri in Cile e quindi nel corso della notte in Italia ha risolto il contratto che lo legava alla squadra del proprio paese dei Santiago Wanderers, la stessa con cui ha mosso i primi passi da professionista. L'età è avanzata, 37 anni, ma lo stesso Oddo in conferenza stampa domenica scorsa aveva affermato, magari averlo se è il Pizarro di 4 anni fa. Il giocatore di elevatissimo tasso tecnico, regista di centrocampo, in Italia si è fatto conoscere con la maglia dell'Udinese, poi stagioni importanti con Roma e Fiorentina ed una parentesi anche all'Inter. Ora che è risolto il contratto, l'entourage del Delfino può dare l'accelerata definitiva e, salvo sorprese, l'affare andrà in porto. L'altro fronte caldo è quello dell'attacco, il sogno al momento più realizzabile è quello di Pablo Daniel Osvaldo, l'attaccante italo-argentino si è svincolato dal Boca Juniors lo scorso mese di maggio e, come già detto nei giorni scorsi, i contatti sono ben avviati per trattare sull'ingaggio. Il forte attaccante sa di doversi rilanciare dopo le ultime stagioni non proprio di livello. Non a caso le pretese di ingaggio sono scese sotto il milione di euro, ma i 700 mila euro richiesti sono ancora troppi per il Delfino. In caso di ulteriore abbassamento di pretese e con l'utilizzo di bonus, domanda e offerta potrebbero incontrarsi e il Pescara potrebbe avere il suo cecchino di riferimento, oltre che un giocatore di grande richiamo mediatico. Intanto la squadra continua a lavorare nel ritiro di Palena. Domani alle 17 ci sarà la terza uscita stagionale, annullata per motivi di ordine pubblico l'amichevole col Frosinone. Il Pescara ha rimediato trovando collaborazione nel San Nicolò, squadra di Serie D, per il quarto anno consecutivo allenata da Massimo Epifani e che ha iniziato lunedì scorso la preparazione nel ritiro di Castel del Monte. Domenica poi altro test con una compagine di Serie D, il Pineto, sempre a Palena. Infine è ufficiale da ieri il rinnovo della sponsorship con il gruppo Oma dei fratelli Angelucci, il cui logo continuerà ad apparire sulle divise ufficiali del Pescara come secondo main sponsor.